La nostra terza concorrente è una giovane di Augusta e questa volta ne sono certa. Si chiama Elenia Falco e ci canta un pezzo di mina. Lo dici tu il titolo? Mi sei? Mi sei scoppiato dentro il cuore. Mi sei scoppiato dentro il cuore. A te col tuo brano. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu, e tu, e tu, tu sei arrivato. Mi hai guardato e allora tutto è scoppiato per me. Mi sei scoppiato dentro il cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non lo so perché all'improvviso, all'improvviso. Sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te.